È un progetto Smart City che ha dei finanziamenti a comunità europea, prevede un progetto di coprogettazione con tutta una serie di soggetti del territorio, tra le quali anche le start-up innovative del nostro territorio. Shike è un progetto che nasce da una start-up innovativa di Parma, è un progetto che va a inserirsi sulla gestione del servizio del bike sharing e va a monitorare attraverso un'integrazione di un'intelligenza applicata al lucchetto delle biciclette, a gestire i flussi delle biciclette per poter valutare i tracciati e i tragitti di chi fruisce del bike sharing. Ad oggi in città esistono diverse postazioni, esistono circa 30 postazioni di bike sharing fisse, però questo progetto può sviluppare anche una soluzione mista, cioè quella di adattare alle postazioni fisse anche delle postazioni variabili, soltanto disegnate per terra, senza infrastrutture pesanti, con la possibilità di avere questi lucchetti intelligenti che consentono poi di rintracciare anche lì le biciclette. Questi sono i due obiettivi che ci siamo posti con questo progetto, quindi di monitorare i flussi e di valutare i potenziali ampliamenti di servizio. Grazie.